Buongiorno a tutti, sono Joe Underworld e ecco a voi alla terza puntata di Transcripted Allora, abbiamo visto che nella puntata scorsa siamo riusciti a battere un boss Penso che sia uno dei più facili dato che eravamo all'inizio E oggi continueremo la storia, quindi continuiamo Perfetto Questa qua è la nanosonda Continuiamo, vai Dobbiamo Se riesci a spezzare la catena da lontano otterrai un macrocolpo e punti sperimenti aggiuntivi, va bene Perfetto Fuori 1 Un attimo che abbassi il volume Ok Ok Usiamo anche un po' il laser Aia 250 punti esperienza 100 punti esperienza Ma va troppo veloce sta roba qui, mi piace Assolutamente Non so che faccio sinceramente Con tutta sta roba Ok Diciamo che si fa un po' più difficile Da qui Ok Aiuto 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 Ok Levitato Vai 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 Sei Non ho compreso bene cosa devo fare in questo livello Sono già passati 53 secondi Ah ho capito In poche parole Se metto la particella, il cubetto dentro quel coso mi blocca tutto quanto E quindi posso fare più colpi, più Cioè posso mettere più Mannaggia Posso mettere più, più roba in poche parole Dai Spara, spara Ecco Ora inizio di andare veloce È una lotta contro il tempo ragazzi Oh E però io l'avevo messo Che palla Allora Speriamo in bene Questo mi sembra bello Nooo Ho sbagliato Devo vorrò alentare prima Ralentiamo Forse è meglio Eh Tanto neanche l'ho beccato Ok Spappoliamo qualche cervelletto Ok Perfetto Meglio così Celeste Glielo mettiamo qui Celeste Dove glielo metto? Qui per il momento Oh mamma Mi sa tanto che devo rimettere Di nuovo il cubo Ok Ho ricevuto un upgrade Per la potenza Per la forza del raggio E vi dico che non mi piace La situazione che si sta creando No Che culo Devo rallentare Questo coso Perché non mi piace Come sta andando veloce Troppo veloce E c'ho ancora Un botto di cose Dai Vai vai No Allora 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 Li metto qui in mezzo E Puft quanti nemici ragazzi oddio aia signorina non me lo dica a me io lo so che in turn potrebbe migliorare le chance di dismalare la chiena dammi in verde dammi in verde dammi in verde si ma dopo in verde dai 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 blu dai 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 sta roba qui in verde ecco inizio di nuovo ad andare veloce devo di nuovo rallentarlo rallentiamo sto sparando a casaccio a quanto pare nooo ah no si si è andato a buon fine dimmi che non si spacca qualcosa dimmelo dimmelo vai nooo per poco non beccavo l'arancione sto sparando a casaccio ragazzi oh mio dio gua perversa ralentare toccoso qui allora rallentiamo dai 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 un verde un verde un verde un verde no ok ok rallentato di nuovo uh si non so cosa sia qualcosa che mi sbrilluccica di qua e di là e non mi piace ecco ho buttato l'arancione che mi serviva mi serviva si no si ce l'ho fatta dai vado a prendere quel blu dai 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 perfetto adesso è una catena perfetto ok io la mettiamo lì andiamo lì su sperando che non si riaviene il coso che insomma qui 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 perfetto un verde un verde un verde un verde perfetto devo incassare di nuovo il cubetto lì in mezzo in modo tale che mi dà più tempo ok perfetto e ho anche adocchiato una particella da distruggere dai 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 lo metto qui e pom perfetto allora andiamo un po' è giusto che io inizi a pensare già a rallentare di nuovo questo coso infatti l'ho fatto qua si il nuovo verde sperando che dai 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 ok perfetto dai ci manca poco dai ci manca poco per superare il livello dai dai nooo vai si aiuto aiuto mi tocca rallentare tutto se me lo permettono perfetto un verde no è vero perché ci dà sempre sta roba eh dai mi serve un verde ragazzuolo ah un celeste mi fa piacere via nooo allora 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 ci abbiamo un celeste che non ci serve un granché ci abbiamo questo qua però che potrebbe servirci nooo pure sbellato a mirare sono proprio scrauso no si 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 un ultimo colpo dai ragazzi un ultimo no no bugia ce l'ho fatta bugia ce l'ho fatta però adesso piccolo problema dobbiamo centrare per finire il livello e i pezzi di DNA che si trovano fra parentesi piccolo problema però diamo in celeste diamo in celeste diamo in celeste si ma dottor celeste bravo dimmi che ce l'ho fatta si ce l'ho fatta voilà campione completato allora vediamo quanta esperienza ci da così facciamo gli upgrade aha mille 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 dai mille no sarebbe 10.000 proprio va bene perfetto continuiamo vediamo gli upgrade che sono disponibili allora vediamo un po' questo cos'è nano repulsori i repulsori migliorati consentono alle sonde di espellere cubi più velocemente facilitandone la mira mmm allettante allettante però a noi serve si ok io lo metto 1 e poi propulsione quantica la propulsione incrementata aumenta la velocità della sonda dice quando trasporta più di buono e poi c'è l'energetica si la vita ovviamente però non abbiamo ce ne servono 32.000 e noi ne abbiamo 14.566 scudo rinforzato però adesso non va accumulatore scudo ah gli accumulatori migliorati consentono una rigenerazione più veloce dello scudo della sonda dopo il ritardo causato da danno zero impatto mmm poche parole si rigenerano lo scudo e mettiamolo tanto allora poi ripetito dal plasma eh c'è 8.000 oh che palla sono a controllo 64.000 abbiamo pochi 6.000 rilascia l'energetica della sonda in un raggio laser letale il danno elevato compensa il basso tasso di fuoco elevato costo energetico perfetto lo mettono perfetto andiamo a continua e andiamo al prossimo livello mmm allettante 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 andiamo subito a prendere la nostra peda propria grazie dimmi che mi droppi un altro un altro viola no mi ha droppato la batteria infinita va bene perfetto no ho sbagliato che culo l'ho lanciato lì a casaccio ok ok ci ha dato la forza uh celeste perfetto uh come non detto ora devo vedere se riesco a tirarlo lì dai 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 sì ma sono un dio dai dai un arancione un arancione mi serve uh uh c'è dato anche un arancione vai reazione a catena reazione a catena vai qua c'è dell'esperienza due di esperienza 100 e 250 vediamo un po' se riesco a tirarlo di qui dai 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 l'ho tirato sì macro colpo ragazzi oh dove è il mirino eccolo qua celeste che cosa sono che cosi no ma sono nuovi mob oddio perché perché l'ho distrutto ne escono degli altri ah celeste mettiamo qui il celeste oh vediamo se riesco a beccare il verde dai 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 sì mettiamolo qui che è meno difficile mettiamolo qui perfetto reazione a catena yeah reazione a catena ancora appunto esperienza ci ha dato il paura ragazzi un po' eh quello quello sì lì ok da questa parte perfetto diciamo che mi sto comportando bene allora 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 celeste non voglio distruggere quei costi giganteschi perché poi ne spuntano spuntano quei piccolini che danno tanto fastidio proprio tanto perfetto ecco nooo cosa ho fatto perché l'ho fatto perché ok nooo ecco come l'ho detto dai 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 ma tipo se io metto il laser voglio vedere cosa mica male oh sto facendo strage un power up sì oh roba infinita vai no ho sbagliato ho droppato il cubetto dai 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 ok arancione facciamo un altro combo perfetto ce ne serve uno verde però che ce lo dia uno verde nooo meno male ecco ce ne ho un altro cesto perfetto vediamo un po' vediamo un po' qui perfetto uh qua ce n'è uno arancione e qua rosso rosso uh celeste dove vai vai qui perfetto dai manca poco ragazzi manca poco manca poco manca poco dai 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 manca poco manca poco esperienza sì mi piace mi gusto qua c'è un rosso perfetto qua c'è altra esperienza e qua ce n'è uno giallo se non un arancione ok no 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 vabbè so che amazziamolo tanto arrivate a questo punto cioè ok l'arancione dove gliela metto ora vabbè gli mettiamoglielo qui così se nel caso dovessi riuscire a trovare un altro arancione ho trovato un verde sono un cesso vagante invece di mina sono un cesso dai 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 manca pochissimo uno o due pezzettini di dna qui manca un pezzettino ragazzi un pezzettino due pezzettini cioè vabbè lo vedete cioè insomma è una cosa assurda ma si sta riempendo di tutta roba oh ma io ho pochissima vita ragazzi oh mamma oh mamma ragazzi ho pochissima vita non me ne sono appena cotto ecco come ho detto anche sbagliato allora vediamo un po' di riuscire a baccare il frammento giusto manca perché oh uno e due ancora a tutti sì sono rimasto con pochissima vita ragazzi proprio poca e direi che per questa puntata è tutto e grazie del supporto che mi date ogni giorno se vi piacciono questi video iscrivetevi al canale commentate e condividete con tutto il mondo e ciao ciao